Tutti ragazzi e ragazze benvenuti in un nuovissimo video. Oggi siamo in compagnia di due mie amiche. Martina saluta. Ciao a tutti. Anche lei ha un canale si chiama Bianca Lussi perché non lo sapete e ha 16 iscritti. Chi si è disiscritto lo ammazzo. Invece Anna e Melly Kawaii. Saluta Anna. Ciao. Anche lei ha un canale si chiama Anna e Melly Kawaii. E ha 10 iscritti. Andate a visitare. Ok. Iniziamo con la Bottle Flip Challenge. Abbiamo scelto 3 squishy. Io ho il Macarons. Io ho la sciambellina. E io ho l'altra sciambellina. No io sono uguali. Verde e rosa. Ok. Inizio io. Niente. Abbiamo tutti insieme. Grazie a chi no. Sì. Anna inizia a avere fortuna. 1 a 0 ragazzi. Si arriva a 10. Non me lo squiscio un po'. Tutta bagnata. Il Macarons. Mi abbia portato già fortuna la mia sciambellina. Perché no? Eh il verde. Sì. Ho avuto il verde. Il verde è il colore della speranza. Grazie che mi ha portato fortuna. Bellissima. La sciambellina molto godiosa. Questa sciambellina non mi vuole bene. A me non mi vuole bene il Macarons. A me lei mi vuole bene. Quell'altra mi vuole bene. A me tutti i squishy mi vogliono bene. Aspettate che anche la sciambella prendo quella. Aspettate che mi mangi una sciambellina. Ho preso quella bubble donut. Ho preso questa. Che mi porta più fortuna. Anche a me il verde è il colore della speranza. Eh la beba a me è più. Ok. A me è il slow rising. Anche a me. Senti, porta fortuna. Non è quella di te. Ehi, però ora porta più altra volta fortuna. Non so che sto vincendo, però. Scusatemi, io urli pazzi. Daniela ti fa sento. Ah, se vai di tappo, ho due punti. Sì. Dai, porta più fortuna. Ti sto squisciando. Che bella però sta. Forse devo bere un secondo. Ma se io l'ho fatto. Così penso che possa andare bene. Davide. Guardate quante slow rising. Anche la mia. Ah, se è danni. No, la mia è più slow. La nostra è più slow. Vai, muoviamoci. Se no il video è troppo. Mi devi portare ancora fortuna. Può forse lì. Capito? Niente. Io? Prima vi ha portato fortuna. Ti ho fatto qualcosa, Daniela. Della sua vantata. No, finiamo l'inizio. Dai, c'è un bellosso. Dai, c'è un bellosso. Anzi, la devo reprire di complimenti. Che bella che sei. Cos'è bella, amore? Ma forse a te tutti vuole proprio bene. Infatti. Perché l'hai comprata da un cinghiale? No, comprare una cartoleria. La cartoleria. Non mette i squish. Invece sì. Marami. Te lo giuro. Ma forse anche. No. Oh, però vale. No, non vale. Non è rimasta, è caduta. Ma è la più nuova di quella. Cioè, la bella. Vado? Ce la posso fare. La mia più vecchia. No, messo. Poco, c'è. Poco, c'è. Sì. Due a zero. Grazie, c'è un bella. Io ti amo. Ti amo. No, buono. Io, aspetta, dove sarei? Ti prego, babbo. Io l'altra volta avevo scelto questo Macarons e questo. Ok. Adesso fa sempre un cinghiale. Io ho scelto il Macarons. Allora, io scelgo questa torta. Daniele, lei ha un fortuna qui. Non vogliamo cambiare il torta. Niente. Guardate quanto è slow rising. Annamarti, dai. Oh, yeah! Sto sempre riaccendo, Daniele. Vabbè, che fa? Può darsi pure il torta, ci riesco. Grazie, squishy. No. Un colpo di gomito e... No! Scusate. Aspetta che vinceremo in questa challenge. Infatti. Anche perché in tutte le botflip che abbiamo fatto io e Daniele l'ho sempre vinto io. Andate a visitare il nostro canale, vi prego. Squishy, si è giù. No! Per favore. A me mi porti molto fortuna. Grazie. Eccola. Che caldo. Ah! Ah! Mi sto arrabbiando. Dai, faicietto. Oh! Bravo, Marti. Siamo uno, uno, due. Uno, due, due, due. Dovete pareggiare con tutte. Ah! Dai, Marti. Dai, dai. Ti ho dato un consiglio. No! Quale consiglio? Ma sto sempre vincendo. Sfigato! Ma voi siete spiegati perché io sto vincendo. Non è vero, sono la stessa. No! Marti, ti ho i piedi di piacere. Vieni, Marti. Ah! Ah! La vince. Ah! Ah! Vieni. Un colpo di gomito. Eh? Un colpo di gomito. Eh? Non vale, non vale. Non vale. Dai, una mano ci va a dare così. Non ce ne date. Ragazzi, le fate vedere. Dove fate vedere? E' un colpo di gomito. Oh, oh, oh. Daniela, oggi mi trova una. Infatti, anche a me. Se mi ha mostricato. Un colpo di gomito. Dai, Dani, muovi. Di sanno la challenge non dura troppo. Ah! Facciamo l'ultimo giro e poi basta. E se non vi... Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Sì, sto a due. Voi state a uno. No! Facciamo l'ultimo giro. Ma poi potresti pareggiare, mamma. L'ultimo giro. Grazie. No, non è l'ultimo giro. Sì, hai detto l'ultimo giro. Facciamo l'ultimo giro. Oh, oh. Eh, ma l'ho vinto comunque. No, che si ha il suo pareggio. Spera che lo pareggio. Questo è l'ultimo giro, avevi detto. Ma è l'ultimo giro. Vai, Marti, pareggia, ma spaccala. Pareggia, Marti, spaccala. Ti porto fortuna. Ho vinto. Daniela, era l'ultimo giro. Ho vinto. E io l'ho fatto. No, Daniela, hai fatto il giro e poi era l'ultimo giro. Abbiamo mangiato. Avete visto, ragazzi? No, era in diretta. Daniela, hai fatto il giro e poi era l'ultimo giro. Ho vinto. No, abbiamo falleggiato. Ho vinto. Daniela, ma perché vuoi fare sempre le challenge a modo tuo? E niente, se questo video vi è piaciuto, mettete un like. Iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao!